La pagina degli spettacoli è in piano svolgimento a Massa Marittima alla 30-23esima edizione del Toscana Photo Festival. Francesco Tei. Workshop di maestri dell'obiettivo come in questo caso Settimio Benedusi o Oliviero Toscani, lo stesso direttore artistico da sempre della manifestazione Franco Fontana. È il Toscana Photo Festival che da 23 anni fa di Massa Marittima per un mese circa la capitale della fotografia italiana. Oltre alle mostre in spazi diversi, quest'anno anche una di opere di giovani autori cinesi sul tema della pace, concorsi, proiezioni e momenti di incontro per parlare di fotografia, delle tante facce di quest'arte che è cambiata nel tempo, soprattutto dopo l'avvento del digitale. È cambiata dal giorno alla notte, adesso i telefonini, contro telefonini, tutti e di più possono fare fotografia, perché è la disciplina artistica da realizzare e significare la più difficile. Uno deve avere come obiettivo di fare della buona fotografia, non bella, buona, la fotografia deve avere un senso, deve risolvere problemi, deve fare un racconto. Se uno fa della buona fotografia, magari c'è la probabilità che possa anche diventare un grande fotografo. La fotografia è un mondo, anzi tanti mondi diversi. Insegnarla è una sfida anch'essa molto difficile. Può insegnare la sensibilità, a essere sensibili, a vedere, a guardare, a riflettere, a sviluppare il cuore e il cervello, a cercare di captare le sensazioni di quando si guarda. E siamo allo sport, calcio, la Fiorentina.